Buona fortuna. Ok, ricevuto, attenzione che forse arriverà anche un altro, sì, riporto difeso. Ok, mettiamoci magari in una distanza migliore e possiamo anche sparare, ma sono morti tutti. Ma voi avete il visore notturno? Ah, ecco. Ok, quando senti pronto possiamo andare. Comando, hanno scondato la porta e c'è stato un po' di casino, però funziona anche sotto controllo adesso. Ok, quindi a posto. Ok, con te sono circa gradi 25, saranno 300 metri. Quanti gradi? 25. Ok, Furious e Cioia voi avete a fuoco libero, ok? Quindi se ritenete opportuno ingaggiare, fate. Non li vedo più, sono dietro la recensione. Ecco, ne vedo uno. Contatto down. Contatto down. Cielo. Cielo. Quanti dentro. Intento. Cielo. Tu. Tgets. Quanti dentro. Ch syndiciamo. Tensito. Quanti dentro. Quanti dentro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo ancora un po' in contatti verso la porta, ci stanno dando dei problemi e... Attenzione. Ok, siete riusciti a tirare su tutti i caduti? Siamo piano piano tirando sui caduti. Ok, ricevuto. Comando, chiedo conferma di l'helicottero. Negativo, è nemico. Ancora nemico. Mentre io e Cioia andiamo sull'helicottero d'attacco e tutti gli altri sull'helicottero di neo. No, no. 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 Ok, ce n'è un altro. Vai verso la prigione nel frattempo. ricevuta un caccia nemico ha battuto, ne è rimasto un altro, ma attenzione perché c'è anche un caccia alleato in volo, quindi non sparate al momento bartero, bartero, come here bartero, bartero, bartero bartero, bartero, bartero Comando dell'elecoltro alleato Affirmativo Comando dell'elecoltro 100 Ci sono dei costanti di lati e lati e obiettivi Comando dell'elecoltro Comando dell'elecoltro Comando dell'elecoltro Comando dell'elecoltro Si ma non riesco a cangiarlo Ok vedo alcuni metri andare ma non riesco a lanciarmi con i missili ok Furious, quello è l'avamposto che dobbiamo scopare dopo ok ok Preso il silbo non mi segna a me di tirati giù però Ok, Neon, mi ricevi? Comanda, ne ho preso con testo di un viscolo negativo, sono un paio di fuoco. Ehm, approccia Neon, approccia a terra. Ok, always, allora predisponete una landing zone per l'elicotolo di supporto alleato. Lanciate un fumogeno. Ok, Neon, l'accidenti del cianamento alla strada del francio. Spredo tre fanchi, il cianamento al cianamento. Comando, fumogeno bianco lanciato. Ok, Neon, fumogeno bianco lanciato. Ok, ne chi ci sanciona ? Segui così bene. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 E' quello dietro! Grazie a tutti! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E' l'attivo Comando, espolzone, generale, con la propulsione, attività di espoluzione Ok, fai a terra la fantasia Fai a terra la fantasia, ne ho noti Dobbiamo scostare in direzione del capovalle Che è successo? Ok, mi senti così? Ok, Lornex per il caso sei medico? No E allora vai, vai Vai a... E' la sua fortuna E' la sua fortuna No, è un caso E' la sua fortuna E' la sua fortuna E' la sua fortuna E' la sua fortuna Chissà, mi canti qua Vai Roblox, per i... se riesci a scendere Peccato, dici dove... dove ti stavano ingaggiando Eeeh, devo girerlo, non lo so, faccio qualcosa che io devo girerlo Ok, vai a scendere, non vediamo nessuno Ok, vai a scendere Ok, vai a scendere Eeeh Ok, vai a scendere Ok, vai a scendere Ok, vai a scendere Fade salire... Persone da...doltre e Joss eeeh Eeeh... Ok, vai a scendere Ok, vai a dar supporto ad Arqs Che credo sia sotto attacco Ok Ok Ok, vai a scendere Ok, vai a scendere 149, non è un po' di niente. Questa è un po' di riscaldamento. Questa è un po' di riscaldamento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no è iniziato è iniziato è iniziato è iniziato Grazie a tutti. Anche tutti gli altri sono senza benzina, tutti e tutti, non so se non sa l'elicottero. No l'elicottero è pieno questo eh, questo elicottero qua è pieno al massimo. Comando mi ricevi? Porto è chiaro. Ok sono di nuovo operativo, non chiedermi cosa ho fatto. Allora abbiamo due BTR con poco benzina e senza munizioni e un BTR e una contro R armati ma con poco benzina. Ok risponetelo. Qual è la direzione che vogliamo prendere, comando? Dobbiamo andare verso la base militare nemica. Quella a nord o quella a ovest? Quella vicino a Telos. Ok copiato. Movimento nostro libero o sentiamo una rossa precisa? Cercate di fare una colonna e niente, andate in direzione base e noi facciamo copertura dall'alto con Cioia. Quindi un approccio diretto. Copiato. 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 Grazie a tutti. Allora, Neon... Te capivo l'RHS? Eh sì. Che figata! Io mi metto di fronte sul cannone qua, che fiero. E vuoi che se no vado... Vado, metto per parte. Allora, apre la fila l'antiaerea, in modo tale che dovrebbe prendere un po' più colpi, mentre il BTR con la fancieria sta un po' più indietro, tipo una quarantina su quantità di metri. Grazie. Grazie. Ok, arriviamo. Grazie. 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 Abbiamo montato qua in zona Sì, ha ricevuto Sicuramente è fanteria perché dai radar non vediamo niente Allora, non stai ricarando un contratto giallo, può essere magari una tecnica un più delicimile? Gli unici contatti che vedo adesso sono cadaveri quando ho lanciato i missili, adesso ne conto tre Piatto, la squadra è rimasto in motte, adesso è 130, adesso è 130 Zona libera Ok, l'artigliere dice che è zona libera Piatto, andiamo in caduti e proseguiamo Un'altra Sì Sì, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Check. Grazie a tutti. No, no, no. Grazie a tutti. 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 Belli larghi ragazzi, belli larghi, tutti insieme. Ho scritto, ho preso tutti... Mezzo, mezzo, tutti giù. In direzione... Posso venire da l'altra parte per distraerlo. Neon, ci penso io, ci penso io ad Hollywood. Mi è stato colpito? Mi può affermare che è stato abbattuto? Da qui uno solo fumo. No, 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 no. Credo che il mezzo ci sia stato abbattuto ma ci sono noi. Ma chi è che spalla adesso? Allora... No, 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 no. No, no, no. si sente la luce che non è rimasto a farlo c'è l'hozzotto al carro Sì Per l'ultimo Ragazzi non tanto ne che ci penso io Che cosa? Bello ce l'ho pensato a te Bingo Non c'era nessuno Ci serve un medico L'ho anche registrato Ci penso io Boh Pensei che eravate abbastanza lontani Non facciamo qualcosa di... Di ritiero Non c'era nessuno Non c'era nessuno Non c'era nessuno Non c'era nessuno Grazie. 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 Ok, attiriamo. Passiamo a lasciato il grano. Grazie. Ok, facciamo il grano qua o il TSRM? Ok, facciamo il grano qua o il TSRM? Per me è uguale. Vabbè, mettiamoci qua. Mettete tutti. Cerchi. Venite qua. Non ho capito il tasto. E' accendato. Grazie. 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 Grazie.